Perché ci incontriamo qui? Stiamo stretti. Vedi, Everton, ci incontriamo qui in modo che Rudy possa partecipare. Stiamo stretti. Qualcun altro ha un'opinione in merito? Stiamo stretti! Credo che lui abbia una domanda. Mi sembra divertente, Hunter, prenderlo in giro per la sua infermità? Forse è veramente una domanda. È vivo, no? È catatonico. Ha pur sempre un cervello. Potrebbe voler partecipare anche lui. Sì, potrebbe avere una domanda. Sì, potrebbe. Potrebbe sapere perché stiamo stretti. Forse Beanie sa molte più cose di quanto pensiamo noi. Scusami, Beanie, da che parte hai il cielo? Esatto! Ora smetti, Hunter. Beanie, quanto è più alto Will Chamberlain di te? Esatto! E Beanie, Beanie, dove è il soffitto? Ora smettetela, basta. Dove volano gli uccelli, Beanie? Come si saluta Hitler? Beanie, se incontri Hitler, come lo saluti? Ehi, Beanie, Beanie, come senti se un elefante all'erga? Beanie, chi vincerebbe una gara di sguardo fin sotto? Beanie! Ehi, Beanie, come segnala una palla a due e un arbitro con un braccio solo? Beanie! Ciao, Beanie! Arigato, Beanie! Ciao, Beanie!